Più Europa con i radicali, i socialisti e i repubblicani, a sostegno di Stefano Bonaccini alle prossime elezioni regionali. E questa la compagine che si è presentata durante una conferenza stampa a Ferrara, avente gli stessi intendimenti ed obiettivi, la tutela dei diritti delle persone e un'attenzione alla salute dei bilanci delle istituzioni. In lista quattro ferraresi, Cristina Sorio e Mario Zamorani per Più Europa, Sauro Borea per il Partito Socialista e Renata Gagliani per il Partito Repubblicano, il più antico in Italia, fondato nel 1800 da Giuseppe Mazzini, dichiara matrice europeista. L'Europa è il nostro destino naturale, non si scappa, per cui prima si incide maggiormente con i nostri desideri in un'Europa a nostra misura, non a prioristicamente lontani, ma entrando in Europa con maggiore voce e maggiore importanza. E questo i giovani lo sanno perché sono abituati a girare per l'Europa, sono a casa loro in Europa. I giovani, è storico pensare che i giovani siano ancora nostalgici della piccola nazione, sono nati in Europa, hanno viaggiato con l'Erasmus, sanno le lingue e quindi ovviamente il patrimonio europeo è quello dei giovani, non ce n'è altri. I socialisti in questa lista a fianco di Bonnacini perché? Per due motivi fondamentali. Uno perché Bonnacini ha governato bene, a nostro avviso, in quei cinque anni appena trascorsi, hanno reso la regione Emilia Romagna una regione europea e la seconda per contrastare una destra populista, una destra che fonda il suo consenso sulle paure della gente, è anti-europea. Il partito socialista ha dei valori, come dicevo prima, fondamentali, è un partito riformista, europeista, non estremista e siamo convinti di poter recuperare una parte del nostro elettorato con delle proposte concrete di buon governo. Più Europa ha deciso di metterci la faccia con il suo simbolo, assieme ai socialisti e repubblicani, per sostenere Bonnacini. Bonnacini è stato un bravo presidente, sarà di nuovo un bravo presidente dopo la vittoria di queste elezioni, però il valore aggiunto saremo noi di più Europa, perché la nostra storia dei diritti civili, dei diritti politici, dei diritti economici, della laicità, della politica e dello Stato la porteremo là dentro. Non c'è solo il PD a sostenere Bonnacini, c'è anche più Europa e noi siamo convinti di fare in modo che questo simbolo sia il voto utile, perché quello che manca è oggi una politica liberal democratica, liberal socialista. Mancano, ci dispiace, Calenda e Renzi, che hanno fatto altre scelte, però fra liberal democratici e liberal socialisti noi ci siamo.